Tra venerdì e domenica ci saranno in Italia altri appuntamenti internazionali. Domenica il Consiglio europeo, il Consiglio europeo che è dedicato alle questioni di immigrazione. Talvolta a Bruxelles diamo sempre l'idea di essere, come dire, sull'emergenza precedente. Me lo faceva notare Enzo adesso, certo che noi andiamo a fare tutte le volte queste grandi riunioni, talvolta anche nottatacce al Consiglio europeo, e poi non ci rendiamo conto che a due chilometri linea d'aria a Molenbeek c'è il cuore, noi facciamo discussioni sull'identità europea, e a due chilometri linea d'aria c'è la capitale della disgregazione europea, o quella che viene percepita tale. Naturalmente, anzi, permettetemi di offrire tutta la nostra amicizia, affetto e solidarietà a Charles Michel, che è l'ottimo Primo Ministro del Belgio, che sta facendo un lavoro molto difficile insieme ai suoi collaboratori. Però fa pensare, fa pensare che è esattamente nello stesso luogo in cui arrivano le carovane dei Ministri, dei Presidenti di Consiglio, dei Primi Ministri, e credo che sia davvero un qualcosa su cui riflettere. Lunedì 30 novembre, vorrei sottolineare, non saremo soltanto a Parigi, ma saremo a COP21, Grazie.